E' morto Arnaldo Forlani e con lui se ne va probabilmente la più autorevole carica politica partorita dalla città di Pesaro. Quella Pesaro in cui Forlani nacque l'8 dicembre 1925 per poi attraversare fra il 1948 e il 1992 quasi mezzo secolo di storia e politica italiana. Una parabola nata all'indomani della nascita della Repubblica e tramontata con la caduta della Prima Repubblica di cui Forlani fu membro cardine. Forlani è morto giovedì sera nella sua casa romana dell'Eur. Aveva 97 anni e da qualche giorno aveva accusato un peggioramento delle sue condizioni di salute. Lascia figli Alessandro, Luigi e Marco. Lascia un'eredità politica che lo vide spiccare il volo da leader della democrazia cristiana provinciale fino ad otto anni trascorsi da segretario nazionale della DC. Fu ministro degli estri, della difesa e delle partecipazioni statali. Fu pure presidente del Consiglio dei Ministri nel bienio 80-81, fu parlamentare per ben nove legislature e sfiorò il Quirinale da candidato alla Presidenza della Repubblica nel 1992. Da decenni viveva a Roma ma spesso tornava a Pesaro per brevi periodi di vacanza fra la sua villa di Novilara e un bagno nel mare di Viale Trieste. Hanno espresso cordoglio il sindaco di Pesaro Matteoriccia e il presidente della provincia Giuseppe Paolini che ne hanno con maggiori cariche nazionali nella storia della città. Una Pesaro a cui Forlani è sempre rimasto legato.